Il prezzo del carburante in autostrada è sempre più alto rispetto al prezzo che viene fatto in città. Qui sono la stazione di servizio Secchia Ovest sull'autostrada A1 all'altezza di Modena Nord. La compagnia petrolifera che gestisce l'impianto pratica per il self-service il prezzo di 1,37 euro per il diesel e 1,51 euro per la benzina, 8 centesimi e 3 millesimi in più rispetto ai prezzi praticati dalla stessa compagnia a Modena città. Per fare un esempio un pieno al self-service di 40 litri di diesel fatto in autostrada costa 54 euro 80 centesimi e 2 millesimi in città 51 euro 50 centesimi e 6 millesimi, una differenza di 3 euro 30 centesimi e 2 millesimi, più del 5% rispetto a un pieno fatto in città. Ma allora perché i carburanti costano di più in autostrada? In pratica le compagnie petrolifere che operano nelle stazioni di servizio pagano royalty, cannoni e contratti alle società concessionarie delle autostrade. Costi e rincari che alla fine vengono scaricati sugli automobilisti in viaggio sulle autostrade.